Dopo il corteo delle ambulanze avvenuto a seguito della vittoria del neosindaco di Capaccio Pestum Franco Alfieri, l'asala di Salerno ha sospeso la convenzione per il servizio trasporti infermi relativamente alle ambulanze della Croce Azzurra di Agropoli e Licinella. In tanti hanno manifestato la propria rabbia in questi giorni riguardo alla decisione assunta. Un gruppo di cittadini, operatori sanitari, hanno realizzato un manifesto per risvegliare le coscienze in merito alla situazione sanitaria che stiamo vivendo in questo momento, ci viene raccontato che vengono effettuati interventi di potenziamento della rete sanitaria del Cilento. Inizia così il testo del manifesto. In passato non sono mai stati comunicati a mezzo stampa per l'avvio della stagione estiva, come si è verificato questa estate, che venissero potenziati ospedale e territorio. Per l'ospedale ci risulta che da quando è stato riattivato il PSAUT funziona sempre allo stesso modo. Probabilmente chi ci informa o non sa cosa c'è nell'ospedale o non vuole far sapere la realtà. I pazienti che arrivano sono solo di passaggio per poi essere dirottati presso altri presidi. Fino a meno di una settimana fa la provincia di Salerno era provvista di cinque ambulanze di tipo CMR, rianimative, con a bordo personale qualificato, cui anestesista, rianimatore, infermiere e autista, un vero e proprio ospedale viaggiante, ubicate in Salerno, Licinella, Agropoli, Vallo della Lucania e Polla. Si sono ridotte a tre per la soppressione di due ambulanze, quelle di Licinella e Agropoli. Per ovviare alla grave emergenza territoriale, l'Asla non ha ritenuto opportuno sostituire le due ambulanze soppresse, proprio in vista dell'estate, ma ha pensato bene di spostare la CMR di Salerno ad Agropoli, lasciando scoperto Salerno città e paesi limitrofi. Un po' come essere al supermercato, ma l'offerta al contrario. Paghi cinque e ne porti a casa tre. E questo sarebbe il potenziamento, sottolineano nel manifesto. Pertanto, l'unica CMR ubicata nella postazione di Agropoli, ma appartenente a Licinella, deve coprire tutto il territorio che va da Eboli fino ad arrivare ai paesi dell'Alto Cilento. Parliamo di numeri come 200.000-300.000 persone. Chiediamoci se è possibile fare assistenza sanitaria efficace ed efficiente, vista la lontananza dei presidi ospedalieri dalla posizione di Agropoli. In aggiunta, continuano sul manifesto, sono state soppresse tre ambulanze adibite a trasporto interno ospedaliero, Vallo della Lucania, Agropoli, Roccadaspide, due delle quali reintegrate in qualche modo. Pertanto, le ambulanze medicalizzate non possono essere attivate per trasporti ordinari ospedalieri, sottraendole alla rete di emergenza territoriale. Riflettiamo. Non facciamoci abbindolare da ciò che viene detto. Sono solo dichiarazioni di comodo per non far conoscere la realtà grave ed insostenibile alla cittadinanza. I cittadini del Cilento, a conoscenza dei fatti, sicuri di ciò che stanno divulgando, se così non fosse, i vertici ci dimostrino il contrario, concludono i cittadini e i sanitari nel manifesto realizzato.